amici di milan.soccer vi faccio vedere in anteprima la terza maglia del milan fatemi sapere cosa ne pensate beh diciamolo francamente ci sono punti di forza e punti di debolezza credo che la questione sia più legata al limite dell'abbinamento dei colori comunque questa è io devo dire che ne ho viste di più belle però ho visto anche di più brutte quindi diamo un voto a questa maglia se alla prima io do un sette e mezzo tendente all'otto perché mi ricorda qualche maglia che ho amato davvero tanto al di là ovviamente dei colori alla terza darei un 6 e mezzo 6 e mezzo fatemi sapere il vostro voto sulla prima e sulla terza tanti saluti tanti saluti uno starnuto della direttrice o dell'operatrice che abbiamo oggi abbiamo anche il cane ramen hanno quelle cane il cameraman allora eccoci qua vi ricordo di iscrivervi al canale mi raccomando è importante che siate con noi perché il nostro canale il vostro canale e soprattutto guardate un po link in descrizione che cosa c'è lì c'è la possibilità di iscriversi al canale dedicato al milan under 23 scusatemi se sono un po ripetitivo molti ci frequentano per la prima volta milan under 23 milan futuro punto soccer digitate su youtube milan futuro punto soccer e iscrivetevi perché quando arriveremo a un numero congruo il progetto partirà anche se per adesso stiamo facendo un video al giorno l'ultimo video ci parla della prima probabile formazione l'undici titolare 433 di bonera ma arriviamo alle cose che riguardano la prima squadra e che cose che riguardano la prima squadra ora io dovrei arrabbiarmi e anche molto e dovrei anche un po urlare se devo essere sincero però lasciamo riposare la direttrice per cui cerchiamo di dirlo in maniera rigida per quanto molto sottovoce nasce ufficialmente la junter attenzione amici miei attenzione perché chi si odia si come era il detto che sia chi si odia chi disprezza compra eccolo non me lo ricordavo chi disprezza compra e sì perché c'è un'idea di marotta e cioè quella di far terminare l'odio tra la juventus e l'inter per concentrarlo tutto verso di noi ma non è tanto l'odio noi siamo abituati dopo trent'anni di berlusconi quanto ci avete odiato beh non importa quanto piuttosto con l'avallo di questo anziano signore non credo che sia un'offesa mio caro presidente gravina un signore agé come direbbero i francesi beh questo signore anziché dimettersi dopo l'ampia figura di puntini puntini ha pensato bene di rilanciare così con fantasia senza temere alcunché quindi io mi chiedo quale deve essere il risultato per poter cambiare i vertici di un calcio che non vede il mondiale da non so quanto tempo e che al di là di una piccola parentesi europea ha collezionato amichevoli di bassissimo valore perché abbiamo sempre incontrato squadre mediocre e soprattutto non ha mai vinto che cosa è successo di nuovo in queste ore beh è successo qualcosa di veramente particolare perché perché da marotta aggiuntoli quindi da l'inter alla juventus la figici prepara una commissione di saggi per la nazionale ora seguitemi nel ragionamento il milan nel prossimo futuro sarà quello che darà più giocatori alla nazionale di serie a perché i campioni dell'under 17 sono prevalentemente giocatori del milan nasce per questo l'under 23 o milan futuro e adesso vorrebbe nascere vorrebbe come dire mettere in piedi il signor gravina una commissione di saggi per decidere le questioni relative alla nazionale è già ma le questioni relative alla nazionale adesso ci arriviamo devono prevedere all'interno di questa commissione di saggi beh quantomeno anche un rappresentante del milan e invece no che cosa è successo all'indomani dell'eliminazione dell'italia da euro 2024 una figura barbina incredibile il presidente della figici che non chiede scusa almeno guarda la butto lì è almeno spalletti una parvenza di scusa la chiesta e invece no lui fai il progettuale quello che vede il futuro gabriele gravina oltre a confermare luciano spalletti e a se stesso oltre a confermare spalletti e se stesso come commissario tecnico azzurro ha parlato di una maggiore cooperazione fra la nazionale club di serie a come riporta il corriere dello sport per ovviare a questa strategia è già stata formata una commissione composta da alcuni degli elementi dei vari club della massima serie a che da ora entrerà ufficialmente in funzione una sorta di conclave che rappresenterà delle società di che sarà rappresentante delle società di serie a e che curerà esclusivamente il rapporto con la nazionale non è passata inosservata sotto questo punto di vista la presenza costante del presidente amministratore delegato dell'inter giuseppe marotta al ritiro azzurro in germania proprio il numero uno nerazzurro fa parte di questa commissione insieme a lui ci sono anche giuntoli della juventus sartori del bologna e umberto marino direttore operativo dell'atalanta sul tavolo di questa commissione ci sono vari argomenti che andranno ad affrontare le prossime sfide il tempo non è molto nel 2025 inizieranno le qualificazioni al mondiale il 2026 una terza esclusione consecutiva sarebbe la pietà tombale sulla gloriosa gloriosa sono così agitato che mi mangio le parole ma tu ti rendi conto hanno fatto una commissione parlo con la direttrice devo parlare il gattese a mia o mia o mia o mia o mia o e mia o e che cazzo la prendiamo un po a ridere ragazzi perché perché la prendiamo a ridere perché non è possibile che il milan questa volta di nuovo taccia non è possibile stare zitti dinanzi a una cosa del genere una commissione in cui c'è il bologna e l'atalanta ma non c'è il milan e voi direte ma non ci sono giocatori del milan nazionale quale nazionale questa nazionale fallita questa nazionale vediamo la prossima nazionale con gli under 17 che ora mette e ora di mettere in campo giocatori giovani che ce ne sono capaci forti e invece no noi che cosa facciamo facciamo una commissione dove mettiamo un rappresentante dell'inter uno della juventus uno del bologna che ha fatto un campionato è uno dell'atalanta e noi muti facciamo le conferenze stampa show non è possibile cioè questa è la certificazione iso novemila e uno di come il calcio in itaeto svegliato amore mio non sono arrabbiato con te sono arrabbiato con loro di come il calcio in serie a sia ormai ad una fase talmente bassa che per risollevarlo bisogna fare una rivoluzione culturale cioè se non lo gridiamo noi che non contiamo nulla di nulla di nulla ma almeno una voce nel deserto dovremmo gridarli io fossi un rappresentante del milan impazzirei allora caro milan me lo devi dire o tu sei sei d'accordo oppure non sei all'altezza ma immaginate una cosa del genere con galliani e berlusconi una cosa del genere con galliani e berlusconi se se c'è vabbè non lo so ditemi voi cosa ne pensate cercate di usare un linguaggio altrimenti per voi dovrò cancellare i commenti perché poi questi magari voi gli dite certe parole e vi denunciano pure come ve ne va di prendervi una denuncia quindi cioè capite cioè voi capite che cosa è successo passa lì così nessuno se ne accorge facciamo sta cosa c'è stata fatta la commissione già è stata fatta c'è anziché dire scusate milioni di italiani che eravate lì con la bandierina come anziché dire scusate per la stratosferica ed ennesima figura di merda fanno la commissione dei saggi chi è il saggio chi decide chi ha la saggezza ciao ragazzi ci vediamo dopo se ero in barca me l'ho già buttato